I sogni sono nostri, dei sicari di Geekook! Quando avremo finito, di te non resterà neanche l'Eko! Non è stato difficile rintracciarti. Come se ricercassi un ultimo scontro. Non ti sfugge niente. Vedo qualcosa. Arriva! Sono forti, non è... Sono forti, non è... Sono forti, non è... Non diamogli respiro! Vittoria per i fedeli! È quel che pensavo. Gli altri che aiuteranno appena saranno qui. Non va bene. È andato a vuoto. Avanti! Lo teniamo così. Sta arrivando un'altra squadra. Ah, scocciante. Ora tocca a voi uomini, avanti! Possiamo ancora finirli! È la vostra! Non c'è percorso! Ho tutto ciò che serve! Muoveteli, confondeteli! Affrontateci e cadete! Scarichiamo! Non è ancora finito. Seguimi, ho raccolto delle provviste più in alto. Ho già troppe cose. Salta su! Afferra quello che puoi finché abbiamo tempo. Me lo tengo per il cammino. Le difese solide sono le più gratificanti da sfondare. Va bene, magnifici. C'è il sacerdote con noi, quindi diamo spettacolo! Conosco quel cappuccio. Io e Bahavas abbiamo un conto in sospeso. Sarà molto dura. Credo che tu abbia scelto una causa persa. Non intendo morire oggi, Utid. Io sì. Ma mi stai facendo cambiare idea. Arriva, è l'ultima cosa che vedrai. Per l'onore dei Karja, per il mio onore. Attenzione, a sinistra! Ma i miei magnifici ci sguazzano, mi ha persinato. Forza, ragazzi! Aiutate! So Paterno in sguazzano! Andate bene. Un Amore! Un Bello! Siamo compagni, ti copro le spalle. Siamo compagni, ti copro le spalle. Tu puoi vederli, ma loro non possono vedere te. Siamo compagni, ti copro le spalle. Ancora ne rimane. Li abbatteremo in un attimo. Questo era l'ultimo dei magnifici. Sperava di avere abbastanza carne da macello, Bahamas. Ora speriamo sia fatta giustizia. Verrai con me? Non sarà facile. Bahamas ha ancora la sua guardia personale.